ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina di condividere il link degli esonerati sui vostri gruppi whatsapp telegram siamo tutti interisti o no poi ognuno la vede a modo suo ognuno vuole bene all'inter a modo suo cosa ti ho detto stamattina come fanno quelli bravi boom edizione straordinaria allora notizia di qualche ora fa nonostante l'ottimismo fatto trapelare da steven zang che poi tra l'altro a me piacerebbe anche vederlo ogni tanto ma non perché sono attaccato a steven zang vorrei capire se se è tutto a posto ecco comunque nonostante l'ottimismo fatto trapelare da steven zang anche nel recente colloquio nell'eventuale colloquio con sala OCTRI non ha accettato tra i vertici del fondo americano non mancano le perplessità la convinzione infatti è che pur ascolta bene apri gli apri 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 qua apri le orecchie apri apri la convinzione infatti è che pur incassando subito cento milioni te l'avevo detto quattro giorni fa OCTRI qualora disgraziatamente ti concedesse riscadenziamento passa alla cassa e così è qualora allora la convinzione infatti è che pur incassando subito quei cento milioni il resto dei duecentosettantacinque del prestito e nuovi interessi non verrà comunque restituito nemmeno alla nuova scadenza t'ho sempre detto t'abbiamo sempre detto che OCTRI presta i soldi a zang sapendo subito dall'inizio che non sarebbero mai stati restituiti il problema però è che OCTRI come è noto una volta riscattate le azioni del club nero azzurro non avrebbe intenzione di prendersi in carico della gestione un po' come ha fatto Elliot yogurt Lee del Milan non pagò Elliot prese il Milan OCTRI l'ha dichiarato a più riprese che non è assolutissimamente interessata alla gestione dell'Inter quindi questo è assolutamente vero ma ripeto cioè si parla di OCTRI come se fossero degli sprovveduti loro sanno benissimo che hanno prestato dei soldi ad un personaggio che non è in grado di restituirli e che non ha nessuna intenzione di restituirli in chat oggi mi avete scritto in tantissimi dopo il primo video di stamattina se voi vi sentite rappresentati da un personaggio del genere io lo rispetto se secondo voi vale più una vittoria istantanea di un progetto io lo rispetto perché dopo l'Inter di Conte mi spieghi cosa è successo ha smantellato la squadra e noi siamo andati avanti a fare cosa non c'è mai stato un progetto in questa società e continuerebbe a non esserci con un eventuale riscadenziamento ma OCTRI non sono gli ultimi degli sprovveduti che mi hanno fatto capire stamattina l'ho detto anche nel video come io ti dico mi avete scritto sempre in tanti ragazzi potete andare a vedere sotto il video cioè è tutto dove vai ragazzo vieni qua saluta vieni qua dov'è il cinese dov'è il cinese vai divertiti ragazzo vai vai divertiti vai vai se vi sentite rappresentati da un personaggio che carica solo debiti sull'Inter che non investe un euro io lo rispetto se per voi l'unica cosa che conta è la vittoria come dicono la Juve io lo rispetto per me ci sono anche altri valori parlo dei valori perché perché questo sponsor di cui si vocifera che è bloccato perché è in attesa di una deroga da parte del governo che come ho detto stamattina ribadisco il governo a dire si all'Inter farebbe un autogol clamoroso perché mi state scrivendo di tantissimi di questo sponsor nessun top club europeo uno sponsor di betting innanzitutto ma prendo il messaggio di vice che saluto che stamattina mi scrive sarebbe uno schifo vedere una società di betting come i miei sponsor sulla gloriosa maglia dell'Inter stanno vendendo anche la dignità per simulare quattro spiccioli peggio di digital beats a quanto pare anche il discorso digital beats non è servito di lezione io sono totalmente contrario all'eventuale sponsor di nevio lo stirato e filippo champagne che sono due grandissimi perché mi stanno simpatici ma lo dicono anche loro non sono dei personaggi da prendere come riferimento perché io sono totalmente contrario al gioco totalmente contrario lo sono sempre stato stato anche perché ho avuto un amico imprenditore che si è rovinato con il gioco e l'ho visto soffrire come un cane e sto parlando del mio migliore amico quindi questi sponsor alla filippo champagne a nevio lo stirato anche no ma anche per immagine questo ti fa capire cioè il fatto che tu prenda in considerazione lo sponsor del genere ti fa capire che condizioni sei e cosa dovresti accettare per andare avanti oltre cosa ci guadagna a riscadenziare un anno a zang sapendo che lui non può pagare cosa ci guadagna autria addirittura a far di due anni sapendo che lui non può pagare è questo che dovete spiegare perché autri lo sa chi c'è davanti c'è davanti un personaggio che non può pagare ma non perché gli mancano soldi perché non può farlo non puoi investire un euro nel calcio hanno chiuso i rubinetti in cina cioè i giornalisti professionisti che parlano dell'inter quello che prende per il culo lì eh che prendeva per il culo sugli arabi io ti ricordo che fino a due mesi fa un corriere dello sport solo le ventiquattro ore fino a due mesi fa parlavano di consorzio arabo non lo diceva giuse 10 che sono i dati sei te che fai i fuori classe su youtube che fai i giornalisti parlo con quello capelli biondini quello lì che fai fuori classe che è tanto lì che a tele lombardia sei te che non avevi capito che il governo cinese aveva stanziato 650 milioni 10 anni per sunning.com e non per l'inter sei te che non sei riuscito a capire queste cose non io quindi da ora non riesce a capire queste cose cioè che lezioni possono prendere le altre persone sei te che fai fuori classe te non sei riuscito a capire nemmeno quei soldi erano per sunning punto com quindi di cosa stiamo ragionando no a questi sponsor che che veramente sono vergognosi sono delle teri che lanciano dei messaggi bruttissimi perché se no e che si fa si sostiene i giocatori della juve che vengono scoliviati per calcio scommesse no a questo sponsor spero che il governo non conceda la deroga perché comunque sarebbe un autogol vergognoso per il governo a livello proprio di messaggio e prendi 10 milioni meno ti prendi un altro sponsor e rimane bello pulito ma ad oggi a quanto pare come dice vince stanno vendendo la dignità per quattro spicci bisogna vedere però se te la fanno vendere la dignità perché è quello innanzitutto ad oggi gli stessi fuori classe che hanno stappato per per lo sponsor per questo sponsor qui e per il finanziamento di zanno sono gli stessi che stappavano per rozzano nuovo stadio ancora forse non hanno capito che non è ufficiale nulla e che ottimi non è convinta diteglielo fategli un fischio a questi che diano pioggia di milioni su youtube ditegli che ottimi non è convinta per nulla perché non scendano davvero ciao ita